segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te caro davidio provare a dirle che il covid oltre che una pandemia e una malattia quindi è un sentimento il covid è qualcosa che è entrato dentro le nostre vite come un sentimento che era la paura di morire che era la paura di vaccinarsi che era la paura che la nostra vita come la conosciamo e come l'abbiamo ritrovata fosse finita che non saremmo mai più riusciti a avere i ristoranti le vacanze gli abbracci il natale tutto è cambiato allora cos'è successo a agosto il nostro ministro schilla ci ha detto che addirittura 7 al covid non devi più stare in isolamento questo è un messaggio lampante cioè ti dice guarda il covid quello che dicevano questi tuoi intervistati quando dicevano ah ma figurati oggi è come un'influenza allora il tema secondo me è questo io ho cominciato a parlare del covid magari è come un'influenza importante vaccinarsi ma il tema è che non è come un'influenza perché è una malattia che come l'influenza porta alla morte ma soprattutto è una malattia che abbiamo visto che può peggiorare a dei livelli con delle cifre con dei numeri di contagiati e di morti perché stiamo ripetendo lo stesso schema 2019 2020 per esempio io sono molto preoccupata spero di essere smentita da questa strana epidemia di polmonite dei bambini che guarda a caso arriva di nuovo misteriosamente dalla Cina allora se ci ricordiamo non quattro anni fa ma tre anni fa perché era all'inizio di da noi cominciamo a parlarne a metà gennaio come se fosse una cosa riguarda solo i cinesi del 2020 da noi esiste questa tendenza a pensare che il mondo globale non sia affatto connesso mentre il mondo globale è connesso allora qual è il tema dei vaccini aspetti però buona lei perché così vediamo anche qual è la situazione sul campo marcello pini come vi dice